salve amici io sono david e vorrei parlarvi del congo square durante il diciottesimo secolo sotto il dominio francese il codice nero influenzò pesantemente la vita degli schiavi e appunto in congo square gli schiavi si riunivano per ballare cantare e suonare musica i ritmi del jazz sono nati proprio lì la danza jazz è nata proprio lì cioè dai riti e dalle tradizioni africane fu nella congo square che molte danze portate dall'africa centro occidentale durante la schiavitù poterono essere viste da tutti dalla metà del 1700 fino alla metà del 1800 new orleans permetteva agli schiavi di riposarsi la domenica pomeriggio e di socializzare tra di loro concedendogli appunto questa piazza fu proprio in momenti come questi che gli schiavi si divertivano insieme tra suoni di tamburi e improvvisazione di nuovi passi di danza e in questi raduni che si formò la musica jazz e gli stili di danza come ad esempio la tap dance la break dance il button twirling e altri stili ispirati da un'arte marziale degli schiavi originari dell'angola conosciuta come capoeira l'importanza di ciò che è accaduto in congo square non solo per la storia di new orleans ma per la cultura americana in generale è catturata da una frase celebre dello scrittore knight nel visitare la città nel 1819 scrisse gli schiavi africani si incontrano vicino alla palude sull'erba e scuotono la città con le loro danze del congo questo è un disegno che raffigura congo square con due ballerini che stanno ballando la bambula la bambula è una danza portata dagli africani nei caraibi volevo farvi vedere congo square e qui inizio la cultura jazz ecco questo questo insegno che adesso se riesco ad avvicinarmi ecco che appunto parla di congo square questa foto qui era il disegno che vi ho mostrato all'inizio del del video ecco io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato ciao amici